Si alza il sipario su Migrarti, il laboratorio teatrale per italiani di seconda generazione di immigrati presentato lunedì mattina in Palazzo di Fraternita dei Laici ad Arezzo. La Fraternita dei Laici, pensate da 754 anni, è la sede dell'accoglienza, è la sede dove si esercita la tutela sociale e culturale di una comunità. Anche in questo evento noi abbiamo dato la nostra profonda disponibilità anche per segnalare questo aspetto che solo la ragione può mandare via la paura e favorire la conoscenza gli uni degli altri. Il teatro è sempre parlato di antichità, in qualche modo miscolare le culture e parlare di popolarità, parlare della diversità, perciò per noi questo teatro è stato veramente molto importante per i ragazzi di seconda generazione e stesso i ragazzi che oggi è rifugiati, vengono da altri paesi del mondo per migliorare la loro vita, la loro situazione. Si terrà infatti martedì 11 luglio in Piazza Grande ad Arezzo alle 21 con replica giovedì 13 prezzo Piazza Torre di Berta a Sansepolcro alle 22, l'esito del laboratorio tenuto da capo Traver Chilovat nell'ambito del progetto Migrarti. In scena andrà uno spettacolo ispirato alla commedia Gli uccelli di Aristofane. Sono veramente soddisfatta e felicissima perché il risultato è, al di là dello spettacolo, l'integrazione e questi ragazzi si ritrovano a uscire insieme e a fare le prove da soli anche senza che io dica niente. Questo è il risultato più bello, il risultato assolutamente che ci aspettavamo ma non era così scontato.